Dopo l'apertura ufficiale della stagione turistica primaverile del weekend pasquale, Vicenza intende consolidare la sua vocazione di meta culturale di livello internazionale e dare impulso così anche all'importante indotto economico che cresce e vive sull'accoglienza dei visitatori in arrivo nella città di Andrea Palladio. Un riconoscimento sancito esattamente 30 anni fa anche dall'UNESCO che ne decretò l'iscrizione della città e delle ville paladiane nella sua lista del patrimonio mondiale da proteggere. Per celebrare questo prestigioso anniversario il Comune ha organizzato una serie di eventi e di aperture straordinarie. Sì, sono una serie di eventi che partiranno il 18 aprile con le presentazioni del piano di gestione e vedranno poi il culmine di queste giornate per il 20 aprile dove saranno aperti tutta una serie di ville e palazzi palladiani che solitamente sono chiusi penso all'oggetta Valmarana e a Giardini Salvi o alle ville fuori dalla città. Ecco, sarà un bel momento per avvicinare le persone il più possibile al patrimonio UNESCO che è vasto in città e fuori dalla provincia. Quando si parla di UNESCO ci viene in mente la figura di Vladimiro Riva e quindi vorremmo anche ricordarlo in qualche modo dedicando a lui questo ciclo di eventi e di valorizzazione del sito UNESCO perché è stata un'anima importante della candidatura e lo è stato sempre fino alle ultime settimane in cui ci eravamo appunto confrontati e quindi a lui va il pensiero. L'ultima battaglia per cui lottò fino alla fine anche Vladimiro Riva fu il riconoscimento del Teatro Olimpico come monumento nazionale. Il provvedimento appena approvato alla Camera invece non ha pienamente riconosciuto l'unicità del manufatto, accorpandolo nel decreto inizialmente con altri 46 teatri italiani in una lista che si è poi estesa a 406. Uno smacco per Vicenza, ma per formulare un giudizio completo non sarebbe stata ancora proferita l'ultima parola. Bisogna per avere una visione chiara aspettare anche l'approvazione di un altro provvedimento molto importante che in questo momento è lo studio, le fasi finali di studio che è il codice dello spettacolo che rappresenterà un'innovazione per tutto lo spettacolo dal vivo. Di fatto il Teatro Olimpico è l'anello di congiunzione tra il teatro classico e il teatro all'italiana, quello che conosciamo tutti noi oggi. Quindi è un unico ma assoluto non solo a livello italiano ma a livello internazionale. Allora per questo io credo che vada continuata una battaglia per rivendicarne una sua specificità, una battaglia che però parte anche da noi qui a Vicenza, dal fatto di riconoscerlo proprio nella sua assoluta unicità.